La mia vuole essere una presenza di attestazione del ringraziamento verso chi sta adoperandosi per fronteggiare l'emergenza più grave che abbiamo vissuto nell'ultimo secolo da un punto di vista sanitario. E devo dire in primo luogo il direttore D'Urso che si sta adoperando per poter creare proprio nella ASL del sudeste ma in modo specifico nella città di Arezzo la possibilità di dare delle risposte efficaci. Andiamo a costruire un percorso che porta in Arezzo 30 terapie intensive e devo dire che questa è la tappa ulteriore che consente al di là dell'attuale pandemia di dare un carattere strutturale a una risposta che è quella dell'emergenza urgenza che oggi si chiama soprattutto Covid. D'Urso è poi persona che mi ha fortemente aiutato nel complesso regionale della Toscana per quello che è stato forse il mio primo progetto un mese e mezzo fa per rispondere alla pandemia, ovvero colmare quel gap di tracciamento che aveva allora dei dati per la Toscana del 37%. Oggi siamo al 100% attraverso l'assunzione di quei 500 giovani perché in gran parte sono al penultimo e a ultimo anno di medicina, di infermeria, di medicina generale e hanno dato quei risultati che attraverso l'isolamento dei contagiati hanno portato stamani a essere a 653 contagiati in Toscana rispetto a quando un mese fa abbiamo toccato per due giorni punte di 2.700. Oggi la Toscana ha 149 comuni senza alcun nuovo contagio rispetto ai 124 che invece segnano ancora contagi, però è la metà dei comuni che non ha avuto contagi, insomma i risultati si incominciano a vedere ma mai abbassare la guardia e non a caso siamo oggi a presentare e a inaugurare altre sei postazioni di terapia intensiva. Presidente, ci sono stati alcuni problemi che sulla Toscana ancora in zona rossa, nonostante i dati come risponde? Ma che non sono classifiche certificati di qualità, l'essere in zona gialla, zona rossa, zona arancione. Sono le misure proporzionali che il decreto del Presidente del Consiglio commisura a quello che è appunto il dato epidemico. In questo caso io ritengo che tranquillamente noi non solo passiamo a zona arancione, ma oggi potremmo gestire per i dati che abbiamo anche una zona gialla. È evidente che il percorso è quello dettato dal DPCM. Io sono disponibile a pormi ragionevolmente nelle condizioni di assumermi delle responsabilità perché si possa passare il prima possibile in zona arancione, però sempre nel rispetto della legge e delle norme che vengono indicate dal DPCM. Quindi dipende molto da quando il Ministro Speranza firmerà il decreto. Sicuramente è una questione proprio di giorni, direi quasi di ore. Rispetteremo quello che è il percorso della legge. Grazie. Grazie.